Niente bancarotta per la mancata fusione dell'ormai ex Banca Etruria con la Popolare di Vicenza per Pierluigi Boschi, ultimo vicepresidente dell'Istituto. Il papà dell'ex ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena, adesso si libera così dell'accusa di bancarotta fraudolenta che gli pesava sulla testa assieme all'ultimo presidente, Lorenzo Rosi, all'altro vice, Freddo Berni, all'ex presidente Giuseppe Fornasari ed infine all'ex direttore generale Luca Bronchi. Per tutti il GIP Fabio Lombardo ha firmato lo scorso 12 settembre, ma la notizia è trapelata solamente adesso, il decreto di archiviazione che era stato chiesto dal pool di magistrati che da anni si occupa del crack di Banca Etruria guidato dal procuratore capo Roberto Rossi. Dunque non si andrà a processo almeno per il mancato accordo con l'Istituto Veneto, per il GIP infatti entrambe le banche erano in crisi, la fusione quindi non sarebbe bastata per evitare il fallimento dell'Etruria. Il mancato accordo commerciale per il giudice non sarebbe stato così idoneo di per sé a ritenere integrati i reati ipotizzati, ossia la fusione con Vicenza non avrebbe evitato il crack. Inoltre, sempre secondo il GIP, sulla base degli elementi che sono stati accertati nel corso delle indagini, non è possibile effettuare alcuna prognosi positiva in merito al nesso causale fra la condottomessa e il verificarsi dell'evento di danno. Insomma, anche se i cinque indagati avessero mandato a monte l'accordo, questo non avrebbe necessariamente portato alla banca rotta, né tantomeno ne sarebbe stata una conseguenza. Chi la pensa diversamente? L'ex liquidatore Giuseppe Santoni, che invece li accusa tutti di aver fatto fallire l'intesa e chiede loro 212 milioni di danni nell'azione civile di responsabilità di Roma, l'equivalente di quanto Vicenza avrebbe pagato se l'Opa su Etruria fosse andato in porto.